Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento, anzi primo appuntamento della settimana con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Ieri il G7 in videoconferenza, i potenti del mondo, i grandi del mondo si sono riuniti, vogliono che Putin non vinca la guerra. Al vertice è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky che rispetto alla possibilità di cedere la Crimea alla Russia ha fatto passi indietro escludendo quindi questa interpretazione. Ma ieri è stato anche il giorno in cui la first lady Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky. Bono Vox e il chitarrista degli U2 si sono esibiti in una stazione della metropolitana di Kiev e anche il premier canadese Justin Trudeau ha visitato sia Kiev che Irpin. Qualche tempo fa si ipotizzava che la fine del conflitto in Ucraina sarebbe stata proprio oggi 9 maggio perché la Russia celebra la vittoria contro il nazismo e lo fa con un'imponente parata nella piazza rossa. Ma oggi 9 maggio è anche una data importante per l'Europa perché si celebra un momento storico, quello della dichiarazione Schumann, ossia il discorso pronunciato dall'allora ministro degli esteri francese, stiamo parlando del 1950 e in cui si prospettava per la prima volta un'unione economica dell'Europa. Intanto tornando ad oggi, ai fatti di oggi e dell'attualità, domani Draghi vola verso gli Stati Uniti. E allora come di consueto partiamo dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera che come vedete titola il G7 preme fermare Putin, Zelensky dichiara con lui è tornato il male, lo zar e la festa a Mosca via la feccia nazista. Sanzioni anche sull'energia, Draghi le misure e l'impegno per la tregua, raid su una scuola 60 dispersi. E poi vediamo a centropagina in alto una foto dell'imponente parata nella Piazza Rossa e sotto il presidente Zelensky tra le macerie con la maglia I'm Ukrainian. In alto vediamo nella Piazza Rossa le prove generali di quella che sarà la parata di oggi. In spalla l'Ucraina e l'Europa tocca a noi costringere il Cremlino alla pace, lo dichiara Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ascoltato da Roberto Gressi. Per arrivare alla pace bisogna fermare Putin, così al Corriere Enrico Letta che aggiunge i cinque grandi d'Europa devono andare a Kiev e poi a Mosca. Prima di passare alla cronaca leggiamo il commento che oggi troviamo sul Corriere, i commenti che oggi troviamo sul Corriere, intanto quello di Ernesto Galli della Loggia. Negoziare ma cosa? È dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che in Italia risuona con insistenza la parola negoziato. Tutto il fronte che si autodefinisce contro la guerra invoca la necessità del negoziato. E a proposito del fronte che si autodefinisce contro la guerra scrive come se ce ne fosse uno a favore della guerra e non già come invece c'è semplicemente a favore della resistenza all'aggressione russa. E poi, continua della Loggia, ci si faccia capire chi nel 1939 appoggiava la resistenza della Polonia contro il Terzo Reich. Era anche lui a favore della guerra. Altro commento, quello di Maurizio Ferrera dal titolo Le riforme necessarie. L'Unione Europea deve promuovere il dialogo e garantire la pace, potenziando nel contempo la sicurezza comune attraverso forze armate congiunte. Questa è una delle indicazioni emerse dalla conferenza sul futuro dell'Europa che si conclude oggi con una cerimonia a Strasburgo. Un anno di dibattiti che hanno coinvolto più di 600 mila cittadini europei. E come vi dicevo, a proposito della cronaca, evade dai domiciliari e uccide la vicina. Otto ore dopo la scarcerazione si è tolto il braccialetto elettronico e ha ucciso la vicina. Aveva già rapinato una coinquilina è accaduto ad Udine. E poi la consueta pagina di Milena Gabanelli, questo lunedì, con Gino Pagliuca, Data Room, con il nuovo catastro caccia alle case fantasma. Non solo case fantasma, ma anche il lusso con la riforma del catastro per chi possiede solo un'abitazione modesta, invece non cambia nulla. Passiamo alla Repubblica, al giornale fondato da Scalfari, Eugenio Scalfari, che pone in evidenza in primo piano la foto di Zelensky nel giorno della memoria. Con una maglietta nera, la vedete, con una scritta, I'm Ukrainian. Il G7 sfida Putin, titola la Repubblica. Uniti contro il Cremlino, non deve vincere. Nuove sanzioni e intesa sul blocco energetico russo. Inviati altri aiuti militari. Zelensky, il male è tornato, i russi si ritirino da tutta l'Ucraina. Oggi la parata a Mosca, trionferemo noi, come nel 1945, dichiarano i russi. Draghi domani a Washington, fare di tutto per il cessate il fuoco. Paolo Mastrolilli, corrispondente a New York, scrive, il G7 si impegna a bandire il petrolio russo per strozzare la principale arteria dell'economia di Putin e negargli i ricavi per finanziare la sua guerra. Il commento, meglio, l'editoriale di oggi su Repubblica è affidato a Ezio Mauro, le tre guerre dello Zar. Tra le musiche patriottiche e gli applausi, i cararmati russi entrano oggi sulla Piazza Rossa insieme coi missili termonucleari, i reparti armati e l'aereo dell'apocalisse nella parata che celebra, come ogni anno, la vittoria dell'Unione Sovietica sul nazismo. Poi l'altro commento, quello di Marta Dassù, Italia-Stati Uniti, il nuovo patto. Joe Biden, che Mario Draghi incontrerà domani alla Casa Bianca, è sostenuto nelle sue scelte sull'Ucraina da un'opinione favorevole del Paese. Poi, come vi dicevo in apertura, la solidarietà da Jill Biden a Trudeau agli U2, l'abbraccio del mondo a chi Kiev. Racconta di questo aspetto, di questi incontri, Paolo Brera. E poi ancora le mappe di Ilvo Diamanti. Il pacifismo senza colore, l'invasione russa in Ucraina dura da oltre due mesi. Non si è trattato di una guerra rapida, come probabilmente si attendeva lo stesso Putin ancora oggi. Non è chiaro quanto durerà, anche se lo squilibrio di forze è evidente. Poi, l'analisi di Linda Laura Sabadini, la popolarità della paura in Russia. 80% di russi favorevoli a Putin non può essere considerato un dato affidabile. Non è possibile misurare tramite sondaggi il consenso verso Putin. In spalla, l'Italia, la cronaca italiana, il tabù inceneritore e il fallimento del modello 5 stelle sui rifiuti. Non bruciate i rifiuti. Il no al nuovo inceneritore di Roma è la madre di tutte le battaglie 5 stelle. Per Conte è la condizione per stare nel governo. E poi l'approfondimento sul lavoro tutta l'Europa alza i salari, mentre noi restiamo fermi. Di Rosaria Amato, in Germania, il sindacato IG Metal sta trattando un aumento dell'8,2% per gli 85 mila lavoratori delle acciaierie, mentre i chimici farmaceutici hanno avuto un unatantum da 1.400 euro. Infine, lo sport, il solito Verstappen, rovina a Miami la doppietta Ferrari. Passiamo alla stampa. Il giornale di Torino che scrive Putin non deve vincere la guerra dal G7 spinta a rafforzare le sanzioni. Parla Ren, che è il governatore della banca centrale finlandese. Possiamo reggere uno stop al gas, ma serve un piano anti-inflazione. La first lady americana incontra la moglie di Zelensky. Il leader degli U2, Bonovox, canta nella metropolitana di Kiev. Il racconto lo fa Francesca Sforza. Il G7, convocato dal presidente americano Biden, ha scelto di mettere sul tavolo la carta della pressione economica. Putin non deve vincere la guerra a centropagina. Vediamo le foto. urla del silenzio. Oggi la parata. Lo zar mostra i muscoli, missili su una scuola in Donbass, 60 sotto le macerie. Quindi continua evidentemente la guerra sul campo. Ma c'è anche la festa dell'Unione. Costruiamo l'Europa superando le crisi. Ogni 9 maggio festeggiamo l'unità dell'Europa e ricordiamo anche la fine della seconda guerra mondiale. Il progetto era mai più una guerra in Europa. Evidentemente non è così. Sulla stampa ci sono anche i racconti. Il comandante dell'Azov, Kiev, ci ha abbandonati. Letizia Tortello. E poi, se l'Oriente precipita nell'orrore di Srebrenica. E ancora la politica. Draghi vola a Washington. Aiuti l'Unione europea a frenare gli Stati Uniti. Infine, la missione del Premier senza il sistema paese. Viste tutte le critiche e tutte le tensioni che si sono create anche nella maggioranza in Italia. rimanendo in tema, quindi sul conflitto in Ucraina, sulla stampa, l'analisi di Alberto Simoni, Falchi e Colombe, il bivio di Biden. Adam Kinzinger, repubblicano, vicino ai neoconservatori e fieramente anti-Trump, qualche giorno fa ha presentato una bozza di legge per autorizzare Biden a ricorrere alla forza per ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'impiego dei soldati americani sul suolo ucraino, però, è l'unico paletto che la Casa Bianca non ha superato. Oggi il reportage di Francesca Mannocchi, la marcia ucraina e la lezione di Ivan. Per spiegare la disciplina che ha imparato in guerra, Ivan Lison dice che il colonnello Zolotov, il suo comandante di divisione, un cosacco arrivato da Rostov, vietava ai soldati anche di rubare le mele dagli alberi. Se la mela è in terra potete prenderla, scrive Mannocchi, chiaramente riportando quello che diceva il comandante cosacco, ma non potete farlo se è sull'albero. Per questo, oggi, di fronte ai saccheggi compiuti dagli occupanti russi, Ivan Lison non si dà pace. La guerra ha le sue regole. Poi ci ripensa e dice, d'altronde questa non è una guerra. Ivan ha 95 anni e vive a Zolokif. In spalla, invece, l'Italia e la memoria, allarme di Alessandrini, troppe tensioni sociali. Temo gli anni di piombo. Grazia Longo, scrive Marco Alessandrini, ha 50 anni e un ricordo. Suo padre Emilio, magistrato, fu ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979. Nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo, avverte, ci sono reminiscenze di insidie alla democrazia. infine, Dunne e il voto in Ulster, mai più ira e terrorismo i giovani col Sinn Féin. Stiamo parlando dell'Irlanda e quindi delle elezioni che si sono tenute nell'Irlanda del Nord e che rappresentano un enorme cambiamento politico, scrive Alessandra Rizzo. Ci vorrà tempo per assorbirlo. E queste sono invece le parole della scrittrice irlandese Catherine Doon. Nel taglio basso, la storia, le gambe di Sharon Stone, 30 anni dopo, così il Webb ha ucciso il desiderio. Se a Marilyn Monroe è bastato mettersi sopra una grata per cambiare il mondo, a Sharon Stone fu sufficiente accavallare le gambe per sollevarlo. Era l'8 maggio 1992, quando uscì Basic Instinct, sono il film. Sono passati già 30 anni, ma le gambe della Stone non sono invecchiate di un giorno. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, la pagina nazionale che titola dal G7, attacco a Putin, l'ultimatum deve ritirarsi da tutta l'Ucraina. Draghi vola a Washington, Bono Vox sorprende Kiev, concerto nella metro, mentre fuori suonano le sirene. E lo vediamo in foto, il leader degli U2 che si è esibito per solidarietà nella metropolitana della capitale ucraina. E poi oggi sulla Gazzetta i dibattiti, quelle vite, i commenti, le analisi, quelle vite spezzate dalle bombe, la riforma della giustizia, riforma della giustizia, opinioni a confronto. E poi, doppio cognome, un approccio che va cambiato. C'è anche la cronaca pugliese, vertenza ex silva, parte un appello al governo e poi la Corte dei Conti manda in procura i bilanci dei popolari. In taglio alto invece lo sport playoff di Serie C, il Foggia stende Lentella e poi Bari in Serie B dopo la festa e già mercato. Passiamo all'edicola del Sud. Oggi abbiamo preso in considerazione la prima pagina dedicata alla Basilicata. L'analisi di Confcommercio preoccupano le vendite, ulteriore crescita del disagio sociale a causa della componente inflazionistica. Confcommercio manifesta preoccupazione per l'andamento delle vendite e il rallentamento dell'economia che comporteranno l'aumento del disagio sociale. A centropagina poi, in primo piano, 44 anni fa l'assassinio di Aldo Moro. Gero Grassi fu costruttore di democrazia. C'è il ricordo di quei giorni terribili, una tragedia che sconvolse l'Italia, scrive Marco Guida. Passiamo al messaggero, giornale di Roma, che scrive Petrolio. L'Unione Europea rinvia ancora Bruxelles divisa sullo stop al greggio. Il G7 Putin non deve vincere questo conflitto. L'intervista a Guy Verhofstadt, membro del Parlamento europeo. Europa bloccata dai veti cingolani, ministro della transizione ecologica dell'Italia, definisce questa un'economia di guerra. La foto poi che racconta il rock della solidarietà, gli U2 nel metro di Kiev, per un concerto improvvisato, missili intanto su una scuola a Luansk. Poi i servizi draghi negli Stati Uniti, un patto per l'Italia di Giovanni Castellaneta. Ancora ciò che i russi dimenticano sul 9 maggio. Infine il messaggio di pace che parte dall'Europa di Riccardo Sessa. Passiamo a un altro tema, quello dei minori sul web, con le nuove regole. In arrivo la norma, i figli potranno chiedere la rimozione delle loro foto nei post dei genitori. Fermare l'accesso dei bambini ai social network, rimuovere le foto pubblicate dai genitori. Se il bambino, una volta cresciuto, lo richiede. Sono le proposte del tavolo sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network promosso dalla ministra della giustizia, Cartabia. E poi la cronaca. Ponza botte al compagno della ex al raid punitivo anche il figlio di lei. Nel video virale, il primo a colpire è il sedicenne. Spedizione contro il compagno della ex partecipa anche il figlio che poi è arrestato e è accaduto a Ponza. Ancora l'altra notizia che abbiamo già visto sul Corriere. Uccisa dal vicino, uscito di prigione otto ore prima è accaduto a Udine. Poi il tema fiscale. Bonus i 200 euro da pagare alle Colf non saranno a carico delle famiglie si richiederà all'Inps come gli aiuti Covid. Non saranno le famiglie a farsi carico del pagamento del bonus 200 euro per Colf e Badanti. Era questo uno dei nodi più delicati da sciogliere nella nuova versione dell'aiuto anticrisi inserita dal governo nel decreto energia approvato la settimana scorsa. Viene quindi valutato un percorso diverso che potrebbe passare per una richiesta all'Inps analoga a quella presentata dalla stessa categoria per l'erogazione del bonus legato al Covid-19 nel 2020. Ancora nel taglio basso, la cronaca, assolvono il killer del mio Matteo e a noi tocca anche pagare le spese. Assolto il killer di Matteo, costretti a pagare le spese, parla il padre di Matteo De Menego, il poliziotto ucciso in questura a Trieste. Mi vergogno di essere italiano, per avvocati e perizie abbiamo tirato fuori 35 mila euro, nessuno ce li rimborsa. Dichiara ancora il padre, l'assassino, è stato giudicato incapace di intendere di volere, ma quel giorno ha sparato a sangue freddo. Ancora la testimonianza del papà. Tra i commenti quello di Mario Aiello, l'immagine del paese attraverso la televisione La Guerra dei Talk. L'Italia della ricostruzione del miracolo economico degli anni 50 e 60 ha avuto nel servizio pubblico radio televisivo un motore di sviluppo civile che ha inciso moltissimo nel dare senso e forza agli italiani in un momento in cui questo paese doveva crescere e affermarsi. Ed evidentemente ci è riuscito. Non è un guardare indietro, ma un guardare avanti. Pretendere che la tv svolga oggi, mentre usciamo da una pandemia ed è in corso una guerra, si ridifiniscono gli equilibri internazionali e la storia si sta muovendo con una velocità capace di cambiare tutto. E nella nuova epoca il nostro paese deve esserci in prima fila. Quindi un ruolo simile, quello della televisione, a quello che seppe avere nei primi decenni della Repubblica. Ci si aspetta proprio questo, scrive Mario Aiello. Passiamo al mattino, al giornale di Napoli, che titola sanzioni, l'Unione Europea paralizzata, troppi veti, slitta ancora l'accordo sull'embargo al petrolio russo. Il G7 dichiara Putin, per i grandi del mondo, Putin non deve vincere. Poi il ministro Cingolani, l'Italia è in economia di guerra sul gas indipendente solo tra due anni. A centropagina, in the name of Ukraine, il concerto di Bonovox nella metropolitana di Kiev. E poi la cronaca, le case occupate dalla camorra e la beffa sgombero. Napoli tutti caduti nel vuoto, gli annunci sulla linea dura. La novantenne cacciata, scrive Paolo Barbuto. Secondo l'ultimo report del Comune di Napoli, sono 7.000 le case occupate abusivamente, compresa quella di Pizzo Falcone, nella quale viveva la signora Carlotta, 90 anni, di fatto sfrattata dagli abusivi durante la sua assenza. Dentro l'abitazione rubata alla professoressa sono anche iniziati lavori di ristrutturazione, a dispetto di ogni regola e degli annunci sulla linea dura contro l'illegalità. Passiamo all'ultima, prima pagina che vediamo oggi, quella del Quotidiano del Sud, che titola Il Sud, l'Eldorado degli investitori. La rinascita del mezzogiorno coincide con la soluzione della crisi italiana e la messa in sicurezza dell'Europa. questo è il titolo definito da Roberto Napoletano. E con questa prima pagina a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e buon proseguimento con i programmi della Rete.